Cinque eccellenze abruzzesi legate dal filo comune della narrazione. Così Gaetano Suffoletta ha motivato la scelta dei premiati della 25 simedizione del premio dedicato al papà Benigno e alla mamma Filomena che anche quest'anno si è svolto con successo nell'aulamagna del comune di Roccaraso. I cinque premiati di oggi sono dei narratori, un giornalista storico, un fotografo che racconta attraverso gli occhi e attraverso i suoi scatti, un designer, un professore, un economista che quindi racconta la sua materia sia agli studenti sia, essendo un giornalista specializzato, anche sulle riviste specializzate e infine una conduttrice che per sua natura, per suo lavoro, è una che narra, racconta le sue trasmissioni e le introduce. Ecco i premiati Marco Patricelli, giornalista storico, esperto dell'Europa del Novecento e della Seconda Guerra Mondiale, che è riuscito a ricollocare nel giusto contesto la storia della Brigata Maiella. Stefano Schirato, fotografo che attraverso lo scatto ama raccontare la storia degli ultimi e degli emarginati. Gaudenzio Ciotti, designer, autore del marchio ufficiale del bimillenario vidiano. Francesco Moscone, economista che lavora a Londra, il quale ha definito una bruttissima e cattiva situazione che si determinerebbe sulla Brexit con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Arianna Ciampoli, conduttrice TV, chi ha indicato nel rispetto la base essenziale per fare televisione nel migliore dei modi. Infine abbiamo dato una menzione speciale a un'associazione sportiva che si interessa di ragazzi con disabilità e quindi fa una nodevole opera di arricchimento e di costruzione di questi ragazzi e per l'angolo della memoria abbiamo ricordato Ivan Graziani, un cantautore e musicista rock abruzzese scomparso una ventina di anni fa e l'abbiamo fatto con la moglie Anna Bischi Graziani che ci ha raggiunto da Rimini e con lei abbiamo ricordato un po' quello che è stata la vita anche e soprattutto l'esperienza artistica di questo cantante, di questo musicista. L'evento si avvale del contributo di Banca Generali come sponsor principale. Banca Generali è sempre vicina al territorio, è vicina all'iniziativa, e le iniziative che meritano di essere premiate perché a loro volta sono le eccellenze del nostro territorio.